Apriamo subito il video con il tasto dolente di questa settimana, in quanto è stata rilasciata la prima news inerente a Metal Gear Solid Delta, il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, appena annunciato da Konami. Questa news è un po' controversa, perché ha suscitato delle reazioni contrastanti tra i fan. Allora ragazzi, ve la faccio proprio breve, l'audio di Snake Eater originale verrà riciclato nel Delta. Fate attenzione perché potrebbe essere fraintesa questa news, perché in molti titoli di articoli ho letto il cast originale di Metal Gear Solid 3 tornerà. Questa cosa non è vera. Il gioco non verrà ridoppiato con le stesse voci, ma l'audio originale verrà preso e messo sul remake, ok? Questo significa che, possiamo dedurne direi al 100%, che non ci saranno nuove linee di dialogo e non ci saranno nuove scene. Il gioco sarà una riproposizione uno a uno del gioco originale. Io non ho preso benissimo questa notizia, nel senso che speravo magari in qualche piccola giunta, però vorrei far commentare la cosa a voi, perché ho visto che molti fan l'hanno presa invece molto bene, perché sono contenti del fatto che la trama non verrà in nessun modo toccata. Fatemi sapere voi come l'avete presa e che cosa pensate di questa cosa, perché sono molto curiosa di leggervi nei commenti. Oggi però non sono qui per parlare di questo, come avrete intuito dal titolo del video, quindi direi che affronteremo il discorso subito dopo la sigla. Nel mio video reaction di Metal Gear Solid Delta uscito sul canale settimana scorsa, ho affermato di non essere propriamente entusiasta del fatto che Konami abbia scelto di partire a fare il remake della serie da Metal Gear Solid 3 Snake Eater e che personalmente avrei preferito partisse invece dal primo Metal Gear Solid. Ho notato che questa mia affermazione ha sollevato un certo dibattito, sia nei commenti che poi sui social e anche persone che mi hanno scritto in privato e volevo un attimo chiarire il mio punto di vista in merito a questa cosa. Infatti questo video nasce proprio per sottolineare qual è secondo me l'ordine corretto per avvicinarsi alla saga di Metal Gear Solid. Ovviamente questo discorso vale per le persone che non hanno mai giocato Metal Gear Solid e si avvicineranno proprio grazie al fatto che Metal Gear Solid Delta porterà la serie sulla nuova generazione. Però potrebbe essere un discorso interessante anche per i fan di vecchia data, che ho notato che molte volte fraintendono questo mio punto di vista. Quindi mi piacerebbe ragazzi approfondire dal punto di vista narrativo, quindi non mi soffermerò sulle scelte commerciali e strategiche che Konami ha fatto, perché credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che commercialmente e anche a livello di lavoro da portare al remake, Metal Gear Solid 3 sia la scelta più giusta che Konami potesse fare. Ok? Io parlerò esclusivamente del lato narrativo della cosa. Vi ricordo che tempo fa feci un video sull'ordine corretto di giocare la saga di Metal Gear Solid, a me non mi sembra, che lo pubblicai anni e anni fa sul canale, e ovviamente consigliavo di avvicinarsi alla saga in ordine di uscita, quindi giocare i titoli come sono stati proposti da Konami, partendo dal primo Metal Gear Solid e concludendo con The Phantom Pain. Oggi vorrei soffermarmi su questo aspetto e andare più a fondo e spiegarvi perché dal mio punto di vista una saga che possa essere videoludica o anche cinematografica debba sempre essere vissuta in ordine di uscita. Voglio comunque sottolineare il fatto che se una persona vuole avvicinarsi alla saga partendo da Metal Gear Solid 3, nessuno le vieta di farlo, si può assolutamente fare, l'esperienza finale è comunque piacevole e non ne rimane intaccata in modo significativo, quindi se una persona mi risponde no, io voglio partire da Metal Gear Solid 3, assolutamente è una scelta e la rispetto, però voglio cercare di sottolineare come è sbagliato dire che l'esperienza è uguale. L'esperienza non sarà mai uguale se la saga viene giocata in ordine cronologico narrativo partendo da Metal Gear Solid 3 e oggi vi spiego il perché. Allora, il commento più gettonato che ho ricevuto sia sotto al video di settimana scorsa che poi in privato su Instagram è stato il seguente. Ti sbagli fra a dire che non si può partire da Metal Gear Solid 3 perché Metal Gear Solid 3 è l'inizio della saga. Allora, questo commento io lo capisco perfettamente, la saga di Metal Gear Solid è una saga iniziata nel 1987 con dei titoli per MSX e si è conclusa poi nel 2015 con Metal Gear Solid V The Phantom Pain uscito per PlayStation 4. Ne va da sé che nel corso di questi 30 anni la saga si è evoluta insieme alla tecnologia videoludica, quindi partiamo dai titoli per MSX che ormai sono giochi considerati super retro e finiamo con l'ultima generazione, almeno fino al 2015, con la PlayStation 4. Quindi possiamo vedere un'evoluzione del gameplay molto significativa. Perché si solleva il dibattito sull'ordine in cui giocare i titoli? Perché la timeline di uscita dei giochi non combacia con la timeline della storia raccontata, ovvero, semplicemente, ci sono dei titoli prequel. I titoli prequel sono dei giochi che raccontano gli antefatti della storia. Questa è la definizione di prequel. È raccontare gli antefatti di una storia già raccontata. Quindi, se noi iniziamo la saga come eroe Solid Snake, poi in Metal Gear Solid 3 vestiremo i panni di suo padre, Naked Snake. La facciamo super breve e anche, no spoiler, ok? La cosa si complica perché di prequel ce ne sono ben tre, che sono Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid Peace Walker, e Metal Gear Solid V Ground Zeroes e The Phantom Pain. Questi titoli sono usciti successivamente ai primi Metal Gear Solid, ma raccontano di eventi avvenuti in precedenza. Per chiarirvi le idee, possiamo spiegarle in questo modo. La saga inizia con Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, prosegue con Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, poi abbiamo il titolo prequel Metal Gear Solid 3, poi si va di Metal Gear Solid 4, seguito da un altro prequel Metal Gear Solid Peace Walker, che viene seguito cronologicamente da Metal Gear Solid V, che comunque resta un altro prequel perché viene prima del 4, ok? Va da sé che una persona che non ha mai giocato Metal Gear, si ritrova davanti a una mole del genere di giochi, rimane un attimo scoraggiata, soprattutto se consideriamo che Metal Gear ha la fama per essere una saga con una trama veramente molto complessa, articolata, con tanti colpi di scena, tante cose molto difficili da comprendere, tutte unite insieme. Quindi, generalmente, la cosa che si fa è cercare di semplificare l'esperienza. E molte persone arrivano alla conclusione che il modo più semplice per approcciarsi alla saga è partire dall'inizio degli eventi della timeline. Quindi, ignorare l'ordine d'uscita dei giochi e partire dal gioco con ambientazione precedente, ovvero in questo caso Metal Gear Story 3 Snake Eater. Ora, io vi spiegherò perché secondo me questo è un terribile errore. Prima di tutto, facciamo una brevissima infarinatura di narrativa. Io sono sicura che avete dei rimasugli degli insegnamenti scolastici. Vi ricordate quando ci insegnavano la differenza tra fabula e intreccio, ok? Fabula è quando la storia segue un ordine cronologico, intreccio è quando, appunto, come stavamo dicendo, non segue un ordine cronologico. Si parla di intreccio narrativo quando l'ordine in cui sono raccontati gli eventi di una storia non corrisponde all'ordine della timeline della storia. Sicuramente vi è capitato di vedere una serie tv o un film che propone questo stesso stile narrativo. È molto, molto comune al giorno d'oggi, ok? E semplicemente avviene quando ci sono, per esempio, dei flashback, ovvero delle scene ambientate precedentemente, dei flashforward, ovvero delle anticipazioni di cose che devono ancora succedere, o, in caso di serie videoludiche, dei prequel. Ora, è importante ricordare che Metal Gear Solid è una saga che si sviluppa su 30 anni di produzione e che quindi è stata modificata e adattata alle esigenze narrative e quindi ha anche molto retcon e dei difetti narrativi oggettivi dovuti proprio a questo grande lasso di tempo in cui è esistita. Però parliamo esclusivamente dell'aspetto narrativo. Ora, perché un autore, come per esempio l'autore di un libro oppure l'autore di una serie videoludica, dovrebbe scegliere l'intreccio invece della fabula? Beh, perché questo rende la narrazione molto più dinamica. Infatti un flashback, come potremmo intendere in Metal Gear Solid 3 all'interno della saga, un flashback può essere un vero e proprio colpo di scena e molte volte rompere l'ordine pensato dall'autore può effettivamente rovinare in parte l'esperienza. Facciamo un esempio con una saga cinematografica famosissima, ok? Star Wars. Come sapete io sono molto appassionata di Star Wars, infatti sto anche frequentando un'accademia di spada laser, chi mi segue sui social lo sa. Facciamo l'esempio di Star Wars perché lo trovo molto calzante, perché questo dibattito sull'ordine in cui avvicinarsi alla saga lo sento molto spesso anche in Star Wars. Se noi partissimo a vedere i film di Star Wars da episodio 1, quindi partissimo dalla trilogia prequel che ci racconta le origini di Darth Vader, raccontandoci l'infanzia e poi l'adolescenza di Anakin Skywalker, arriveremmo poi alla famosissima scena della trilogia originale in cui Darth Vader rivela a Luke Skywalker di essere suo padre, senza vivere il colpo di scena. Un altro esempio che potrei farvi, sempre nella cultura generale, che sicuramente tutti conoscete, non c'è bisogno di entrare nei dettagli, per esempio, Python in Harry Potter. Le scene che noi andiamo a vedere di Python da bambino sono ovviamente precedenti all'inizio di Harry Potter, ma non per questo devono essere inserite all'inizio, assolutamente. Questo è uno dei tantissimi esempi che potrei fare, anzi, a fine video, dopo un disclaimer che vi avviserà della presenza di spoiler, vi farò degli esempi inerenti proprio a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ora voi potreste dirmi, ma io la vivo benissimo anche così, non mi sono rovinato l'esperienza guardando Star Wars in ordine cronologico, giocando Metal Gear Solid in ordine cronologico. Non ci si rovina l'esperienza, come dicevo all'inizio, nel senso che si può vivere lo stesso la saga e apprezzarla appieno comunque, ma si perde la comunicazione con l'autore. E questa cosa è molto molto importante da sottolineare. Per esempio, Snake Eater è pieno di strizzate all'occhio ai giocatori che vengono dai primi due Metal Gear Solid. Tutte queste piccole strizzate d'occhio, chiamiamole, quindi rimandi, momenti in cui tu stai intuendo cosa succede, perché sai dove la trama arriverà, vengono completamente annullate nel momento in cui si gioca Snake Eater per primo. Quindi diciamo che la scelta dipende anche dalla vostra sensibilità narrativa. Quanto volete vivere la saga e apprezzarla nella sua interezza e quanto invece vi interessa la sua narrazione, quanto vi interessa il foreshadowing, ovvero l'anticipazione di cose che ancora non sono avvenute, quanto vi interessa il sottotesto. È qui che sta la differenza su come volete approcciarvi alla saga. Se voi avete mai letto un libro o visto un film che utilizza il flashback come stratagemma narrativo per creare un colpo di scena, cosa che tra parentesi a me piace fare quando scrivo, sicuramente non avete mai messo in dubbio la struttura di quel film, nel senso che non avete mai pensato ma perché il film non è iniziato con questa scena? Perché quella scena inserita in un determinato momento è rivelatrice. E la stessa cosa succede in Snake Eater. Snake Eater è rivelatore, ci spiega perché Big Boss è in un determinato modo nei primi Metal Gear, perché Solid Snake esiste, ci spiega le origini di qualcosa che noi già conosciamo. Quindi ci spiega gli antefatti. Assolutamente io non sono per niente arrabbiata con Konami per la sua scelta, non sono indignata in nessun modo, credo e ripeto che Snake Eater sia stata una scelta saggia dal punto di vista commerciale e sono veramente grata e contenta che abbiano deciso di rilasciare prima di Metal Gear Solid Delta la Master Collection Volume 1 che contiene Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 originale con all'interno i primi due Metal Gear. Quindi se una persona vuole fare le cose fatte bene e vuole partire a giocare il gioco in ordine d'uscita può farlo, potrà farlo su nuova generazione, su PC, su Playstation e su Xbox, anche se ancora non è confermato che la Master Collection uscirà per tutte queste console, ma penso di sì. Quindi hanno dato i mezzi ai fan di vecchia data, ma anche quelli nuovi, di poter scegliere come avvicinarsi e questa secondo me resta la cosa più importante. Un'altra cosa che mi avete detto in molti è che non dovevano partire da Metal Gear Solid, ma dovevano partire dai primi Metal Gear. Mi avete corretta in tantissimi sul fatto che io ho tralasciato l'esistenza di Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake. Ragazzi, non me li sono dimenticata. Cioè, lo so che Metal Gear e Metal Gear 2 sono ambientati prima di Metal Gear Solid. Però, quando le persone mi chiedono come avvicinarsi alla saga, io rispondo sempre di partire dal primo Metal Gear Solid. Per diverse ragioni, in realtà. Sia per il fatto che i primi Metal Gear sono invecchiati veramente tanto. Non dico che sono invecchiati male, perché ovviamente se una persona è appassionata di retro gaming, si divertirà un mondo, giocarli sono bellissimi. Metal Gear 2 Solid Snake ha una trama che fa davvero invidia a tanti giochi di oggi, ok? Però, comunque, resta un gioco invecchiato. E mi sembra una tortura obbligare una persona che non ha mai giocato a Metal Gear Solid a partire da quei giochi. Cioè, secondo me, non fa altro che scoraggiarla alla fine, no? Quindi io consiglio sempre di partire dal primo Metal Gear Solid, perché comunque riprende tantissimi elementi dei primi due Metal Gear e ne fa una sorta di reinterpretazione, reboot. E comunque c'è da dire che Metal Gear Solid riassume molto bene gli eventi dei primi due Metal Gear raccontandoceli anche un po' indirettamente. Quindi, secondo me, non sono d'obbligo. È evidente che se Konami avesse annunciato il remake dei primi due Metal Gear io starei facendo i salti di gioia. Però sarebbe un lavoro davvero mastodontico e bisogna anche andare incontro alla casa produttrice e capire che alla fine chiederle una cosa del genere sarebbe stato veramente eccessivo. Andavano incontro a rischi assurdi facendo remake di quei titoli così poco conosciuti. Quindi, se proprio dobbiamo rimproverarle qualcosa, secondo me sarebbero dovuti partire dal primo Metal Gear Solid. Ecco. Però, ripeto ragazzi, il mio discorso è puramente narrativo. Voi lo sapete che adesso io scrivo e quindi ci tenevo a specificare il perché io abbia sollevato questa questione. Ma voglio anche che capiate che la narrativa non è tutto quello che esiste nella saga di Metal Gear Solid. Ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione. Per esempio, anche il gameplay. Giocando la saga in ordine cronologico andiamo incontro anche a una linea non lineare di qualità di gameplay e di modernità di gameplay. Quindi, partendo da Metal Gear Solid 3 e andando poi avanti con Peace Walker e The Phantom Pain ci troviamo in The Phantom Pain con un gameplay super moderno e poi dobbiamo subire uno stacco proprio netto giocando al primo Metal Gear uscito nel 1987 e rimaniamo un attimo spiazzati. Quindi, secondo me assecondare l'ordine naturale di uscita di una saga significa viverla non solo per come è stata concepita storicamente e seguire anche la sua evoluzione tecnica ma significa anche ascoltare nel profondo l'autore e riuscire a capire tutto quello che voleva comunicare e come voleva comunicarlo. Ora, per concludere questo video che come al solito è durato più di quanto non credessi farò una piccola parte spoiler in cui vi parlerò di alcuni elementi narrativi che vengono completamente persi in Metal Gear Solid 3 se viene giocato per primo. Come volete vedere questa parte spoiler io vi saluto adesso vi ricordo di iscrivervi al mio canale in cui potete trovare approfondimenti e gameplay inerenti alla saga di Metal Gear Solid e non e di seguirmi anche sui social dove spesso parlo delle news inerenti a Metal Gear Solid e anche i progetti del canale. Allora ragazzi ci tengo a fare qualche esempio in breve riguardo a Metal Gear Solid 3 sapete che quando inizio a parlare di Snake Eater poi vado a manetta quindi non so quanto durerà in realtà questa parte però in questi giorni sui vari gruppi sia quello Telegram che quello Whatsapp in cui ci confrontiamo un po' tra fan abbiamo sollevato questa questione e ci siamo soffermati su quali sono gli elementi narrativi di Metal Gear Solid 3 e le scene di Metal Gear Solid 3 che non si riescono a godere appieno se si gioca come primo titolo. Direi che possiamo utilizzare per fare l'esempio il personaggio di Ocelot uno perché voglio usare lui due perché Ocelot è il personaggio più rappresentativo della saga nella sua interezza è il personaggio che lega tutti i titoli uno all'altro quindi direi che calza proprio a pennello e ci soffermeremo sulla sua scena di presentazione quindi la prima scena in ordine cronologico in cui lo vediamo il suo primo incontro con Naked Snake ora c'è una sostanziale differenza in questa scena se noi la viviamo da giocatori storici della saga quindi che vengono da Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 o se invece la vediamo per la prima volta e conosciamo il personaggio così allora la sostanziale differenza è che questa scena vuole raccontarci la nascita di Revolver Ocelot quindi vuole mostrarci come il Revolver Ocelot che noi abbiamo conosciuto negli altri titoli era prima del suo incontro con Big Boss quindi questa scena ci sta raccontando il fatto che il personaggio che noi abbiamo conosciuto è un personaggio strettamente legato a Big Boss se noi non abbiamo giocato Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 questa cosa non possiamo capirla per esempio quando lo vediamo con la pistola automatica non ci chiediamo ma come mai non ha Revolver perché noi non sappiamo che lui si chiama Revolver Ocelot quando lui viene completamente umiliato da Big Boss non pensiamo oddio guarda come giovane guarda che pivello che è quando lo vediamo comparire come soldato del gru in Unione Sovietica non ci chiediamo ma come mai Ocelot è in Unione Sovietica lui non lavora per la Casa Bianca negli Stati Uniti quindi ragazzi tutte queste cose sono assolutamente parte della narrazione se vogliamo proprio rendere la cosa super evidente quando Ocelot è privo di sensi in Metal Gear Solid 3 dopo che Snake lo ha steso possiamo ucciderlo ok nel caso lo facessimo il gioco ci costringe al game over in uno stratagem narrativo che secondo me è geniale ovvero il time paradox ovvero siccome stiamo vivendo un prequel non possiamo cambiare gli eventi del futuro Ocelot nel futuro ci sarà quindi Ocelot non può morire scatta un time paradox e il gioco ricomincia ok come se fosse un game over ecco questa cosa se dovesse succedere a un giocatore che si sta avvicinando alla saga con Metal Gear Solid 3 non ha nessun significato che significato potrà mai avere anzi secondo me potrebbe gettare scompiglio confusione del tipo aspetta ma come un time paradox non è che siamo in una simulazione che cosa sta succedendo perché questo stile di Metal Gear Solid di rompere la quarta parete di giocare su questi elementi è molto comune e se vieni da Metal Gear Solid ovviamente lo cogli subito e capisci subito il significato ma se invece ti stai avvicinando solo a Snake Eater è impossibile comprenderlo come per esempio è molto interessante sempre utilizzando Ocelot la conversazione finale alla fine di Metal Gear Solid 3 Ocelot fa una telefonata doppia quindi prima chiama il Cremlino e poi la Casa Bianca e si scopre che lui era Adam ed era dietro a tutti gli eventi di Snake Eater un giocatore che gioca solo a Snake Eater secondo me reagirebbe pensando oddio pensa quindi è una spia cioè una spia per gli Stati Uniti d'America invece una persona che viene dai primi Metal Gear reagirebbe giustamente dicendo oh mio Dio lo sapevo sapevo che c'era lui dietro tutto ecco che cosa stava facendo ma certo dopo 50 anni lui sarà ancora qui a fare le telefonate e fregarci tutti all'ultimo ok? questa cosa è voluta dall'autore l'autore vuole che tu pensi questo ok? fa parte dell'esperienza non è una cosa in più è proprio parte dell'esperienza di Metal Gear Solid se vogliamo parlare più macroscopicamente tutto il gioco ti fa domandare ma io chi sto giocando? ma questo chi è? perché è uguale a Solid Snake? che cosa sta succedendo? ma questo è Big Boss oddio si è Big Boss perché adesso ha perso l'occhio e ha la benda proprio come quello di Metal Gear Metal Gear e Metal Gear 2 ecco tutta questa esperienza del oh mio Dio sto vivendo le origini di Big Boss e sto scoprendo perché lui diventerà un villain perché il gioco ci spiega perché lui diventa un villain ci spiega la sofferenza che c'è dietro al personaggio di Big Boss viene completamente perduta se Snake Eater viene giocato per primo quindi ricordatevi sempre vi prego vi prego vi prego che l'ordine di uscita è sempre la scelta giusta io spero di non essermi dilungata troppo e spero che il video vi sia risultato in qualche modo utile o interessante fatemi sapere che cosa pensate di questa riflessione e ci vediamo nel prossimo video visto che adesso Metal Gear sta tornando in vita direi che arriveranno altri video soprattutto quando usciranno un po' di news anche a voi che siete rimasti fino alla fine vi ricordo di seguirmi sui social e se non l'avete già fatto assolutamente di iscrivervi al canale grazie e ciao a tutti grazie